Ehi, sei mai stato su una macchina del tempo? Ah sì, secondo te questa cos'è? Un'automobile. Stai vedendo la cosa nel modo sbagliato. Questa è una macchina del tempo del ventesimo secolo. Io sono il comandante. E tu il navigatore. Lì davanti c'è il futuro. Là dietro... Beh, quella è il passato. Se la vita va troppo piano e ti vuoi proiettare nel futuro, devi dare tutto a casa, ecco così. Visto? E se vuoi rallentare... Beh, è facile, spingi col piede sul freno. E la fai rallentare. Questo è il presente, Philip. Goditelo finché dura. Sura bai ha vishi più... Sura bai ha vishi più... Sura bai... Grazie a tutti.